Abbiamo studiato il caldo tutti qua. Allora, il quarto Memorial Petasuglia, BMW Cup, è un piacere che ormai sia diventato un torneo di valenza nazionale perché abbiamo già fatto raccordo anche con dei network e con radio che vorranno trasmetterlo nelle città dove ci sarà il basket che conta, ma la cosa più importante è che quest'anno con il nostro debutto nelle Coppe Europee ha accettato l'invito anche una squadra straniera, quindi inizieremo ad avere un assaggio di quella che sarà la stagione prossima, la stagione del debutto in Europa che quattro anni fa quando iniziamo col primo torneo con partita secca nessuno di noi poteva immaginare, quindi questo ci deve riappire di orgoglio, ci deve far capire i risultati che sono stati ottenuti, la crescita di tutto il movimento, la crescita a livelli veramente esponenziali dell'interesse che Brindisi ricopre nel panorama cestistico nazionale. Vi dico che i prezzi delle partite saranno impariati rispetto allo scorso anno, 10 euro le due partite nel settore di su e 15 euro per imparterre, quindi non abbiamo ovviamente ritoccato nulla, è scontanto un piacere. Il venerdì sera, giorno della prima serata, presenteremo ufficialmente la squadra e i giocatori al pubblico, la prima serata la condurrà il nostro amico Mino Taveri, giornalista Mediaset, sabato invece la porterà avanti la serata, è qui presente Antonio Celeste, quindi avremo il piacere della conduzione da parte sia di Taveri che di Celeste. La cosa bella quest'anno è l'ultima sera, dopo la finale e la premiazione tutti i tifosi dell'Enel Basket sono invitati nella piazzetta antistante a Palazzo Nervegna per una serata in collaborazione con Red Bull, una serata che corre il rischio di diventare storica e famosa perché vanno le prime che fanno in questa città ma la fanno con degli sportivi, la fanno con chi rappresenta secondo loro un movimento importante, un movimento da sposare che si coniuga bene col brand del loro marchio. Una cosa che vi volevo dire, domani sera alla fine del primo allenamento finalmente della squadra nel Palazzo apriremo le porte della palestra e potrete tutti i tifosi, giornalisti, amici conoscere e vedere da vicino per la prima volta finalmente tutti i giocatori che comporranno il roster dell'anno prossimo. Da questa sera arriverà un nuovo giocatore, De Montpiappe è appena arrivato, Alessandro ha pescato un ragazzo molto molto interessante, un rookie, si chiama Cameron Harris, si aggrega alla squadra, non ha firmato nessun contratto, lo valuteremo, vedremo un attimino le sue capacità, la sua voglia e il suo grado tecnico con cui ci auguriamo arrivi già pronto per poter affrontare questa prima parte di stagione e poi dentro il 30 settembre prenderemo una decisione se confermarlo meno. Questa è una decisione della società, me ne assumo ogni responsabilità avendo fatto una squadra molto interessante dove vi chiedo solo una cortesia, non voglio più sentire parlare di panchinari, sostituti. Noi abbiamo nove in questo momento titolari, nove giocatori che potrebbero giocare in quintetto balli in quasi tutte le squadre del campionato italiano. Quindi essendoci resi conto che veramente è venuto fuori un team importante, per il ruolo di ala piccola, come si dice in gergo, numero tre, che andremo a trovare, vogliamo avere molta pazienza, molta calma, aspetteremo probabilmente la fine del veteran camp o i primi tagli del veteran camp perché non vogliamo sbagliare e vorremmo rimanere ambiziosi e sul pezzo come vi abbiamo promesso dall'inizio della campagna acquisti. Campagna acquisti che ci ha visto scrivere una pagina non felice del nostro basket, ultimo, del quale vi voglio parlare perché mi sembra giusto fare chiarezza. Si è letto e scritto tanto, però di fronte a un giocatore che ti manda il passaporto, che ti manda il tesserino per essere tesserato, di fronte ai procuratori che ti danno l'operazione chiusa, di fronte al Twitter del giocatore stesso che annuncia il suo arrivo in questa città, credo che anche i più tranquilli, anche i più esperti e navigati sicuramente del sottoscritto, sarebbero caduti nel trabocchetto di dare il giocatore fatto e chiuso per noi. Abbiamo riuscito addirittura in quei giorni delle relazioni, una me la spedì Alessandro di un suo collega scouting che ci faceva i complimenti per la presa del giocatore, quindi siamo stati veramente beffati su un filo di rana, però nella vita si chiude una porta e si apre un portone, probabilmente qualcosa era scritto lassù che questo giocatore non doveva venire a prindisi, ripeto, io ho rilasciato delle dichiarazioni dove aprivo sinceramente le porte all'arrivo di questo atleta, probabilmente ho peccato di entusiasmo, ma se ho sbagliato l'ho fatto per passione, perché credo che di questa squadra essere il primo tifoso, il primo ultra insieme agli amici della turma, e quindi mi assumo ogni responsabilità per ciò che è uscito sulla stampa della chiusura positiva del giocatore, ma così come vi dico che non ci aspettavamo un comportamento come quello che si è verificato, per questo serve per imparare, le lezioni servono per crescere, e sono tutte esperienze che immagazziniamo per essere più bravi, essere più forti e non incappare in altri errori. Dopodiché abbiamo chiuso i due giocatori, Ivano Weharper in tempo praticamente da record, e questo devo ringraziare Alessandro che mi segue, mi sopporta nelle mille telefonate che vi faccio al giorno, ma che si sta dando un grande affare per allestire il miglior team che si possa fare. Obiettivi per l'anno prossimo, nessun giocatore ha firmato obiettivi di salvezza, nessun giocatore si accontenterà di vivacchiare i prindisi, certo se noi pensiamo di fare quello che abbiamo fatto l'anno prossimo, penso che iniziamo a sognare un po' troppo, ciò che è successo l'anno scorso è qualcosa, qualcosa mi auguro di ripetibile, ma razionalmente parlando irripetibile, essere campioni d'inverno, essere in testa della classifica per gran parte del campionato ritengo che non faccia parte del DNA di questa città, ma che faccia parte di qualcosa che nella vita può capitare, un treno che ti passa e devi cercare, un'onda che ti passa e devi cercare di cavalcare quanto per più tempo possibile, noi l'abbiamo fatto. Però i nostri obiettivi sono quelli di ben figurare, di far parte del lato sinistro della classifica, di essere fra le prime otto alla fine del girone d'andata per qualificarci per le final eight, di cercare di ripeterci nei pre-off, magari superare anche un turno e di andare quanto più avanti nelle coppe. I programmi della società sono questi, il main sponsor richiede un'applicazione molto professionale, un taglio molto professionale a questa società e noi lo faremo, per rispetto dei quasi 2.500 abbonati, 2.600 abbonati che già hanno sottoscritto le tessere d'abbonamento prima dell'inizio del campionato. E' la passione di questa città, la passione di questi tifosi che ci sta facendo andare avanti al sottoscritto e a tutti i soci che fanno parte di questa società. La cosa che più mi gratifica, credetemi, è sentir parlare, in questo momento che sono gran parte della settimana al nord e mi interfaccio con altre società, sentir parlare di Brindisi come una delle bighe del campionato. Io penso che 4 anni fa, quando siamo entrati in questa società che veniva da una retrocessione pesante, credo che di strada ne abbiamo fatta tanta e che vi devo veramente a livello personale un applauso perché solo attraverso il vostro impegno, la vostra passione, si sono potuti realizzare questi obiettivi incredibili, grazie alla professionalità di Alessandro Giuliani, al coach Bucchi, a Nicolai, a tutti i soci che fanno parte, veramente siamo riusciti a creare pagine di storia che magari tra vent'anni forse li vedremo in queste, ecco, al posto magari di Claudio, di Elio, vedremo un'altra volta Bucchi, vedremo il nostro Geron Dyson che incontrerò sabato a Sassari, che giustamente a fine campionato ci aveva chiesto che aveva piacere a partecipare all'Eurolega, quindi quando sento dire abbiamo perso Geron Dyson, noi non abbiamo perso Geron Dyson, noi ci siamo salutati da persone corrette con un giocatore che aveva espresso il desiderio di andare in NBA o di fare l'Eurolega, quindi siamo stati attenti, abbiamo cercato di riconfermare i giocatori più importanti, coloro i quali che avevano voglia di rimanere a Brindisi. E a proposito di passione, devo dire che mi ha stupito in maniera molto, molto positiva la creazione dell'associazione Brindisi Vola a Canestro e mi fa piacere stasera la presenza del Dottor Tomei che è uno dei rappresentanti che sta seguendo più da vicino questa associazione. Loro il 3 settembre si riusciranno per rendere operative ufficialmente nata questa associazione di imprenditori, di professionisti, di tifosi, sarà un valido apporto all'Ener Basket ma non deve essere considerata una, tra virgolette, sponsorizzazione, un aiuto di denaro che questa associazione darà, ma sarà un'associazione che più in là dovrà essere il cuore pulsante della società brindisina perché noi dovremo arrivare ad essere una società con un azionariato popolare, con un azionariato basato dai 20 tifosi da coloro i quali la domenica sono presenti nel palazzo Elio Pettasuglia che ci auguriamo non più questo tra qualche anno ma uno un po' più grande o questo ristrutturato per poter raccontentare tutti i tifosi ma per poter creare dei progetti importanti e dei progetti duraturi. Brindisi non ha purtroppo e se ci fosse qualcuno, qualche imprenditore, qualche menzionata che decide di investire nel paracanestro personalmente sono pronto a farmi da parte ma io mi farò da parte insieme ai soci che mi accompagnano da questo progetto solo quando vedremo un progetto serio, un progetto di imprenditori che vuole bene alla paracanestro e che viene a Brindisi per fare paracanestro e non viene a Brindisi per farsi pubblicità e far morire ciò che con tanto impegno, con tanti soldi abbiamo costruito fino ad oggi. Quindi questo è il mio impegno, saremo, mi auguro, protagonisti di questo campionato e vi dico anche che per le coppe stiamo studiando dei biglietti, visto che ho i miei amici tifosi che mi criticano sempre per i prezzi dei biglietti, stiamo pensando a dei costi molto interessanti. Il parterre costerà a 20 euro, il parterre quarta e quinta fila a 15 euro, quelli posteriori, le ultime file a 8 euro, per le tribune si tratterà di 8 euro per le gratinate curve e 12 euro per le tribune. Quindi abbiamo fatto dei prezzi tali da potervi avere ospiti anche ad assistere alle nostre partite e ci auguriamo di fare un bel cammino perché Brindisi in Europa deve essere un riconoscimento per tutti, per noi, ma soprattutto una festa per voi tifosi che avete contribuito in maniera così importante all'arrivo di Brindisi nell'Eurocello. Vi ringrazio e passo la parola a Alessandro. Spiega bene il ragazzo che arriva, le caratteristiche. Buonasera. Sì, come erano io? Siamo Ucchi, che è giocato all'università quest'anno uscito da Buckland, è un giocatore che abbiamo seguito anche da Summer League, ha fatto da Summer League con Pericans, è un figlio del basket perché è già professionista da 1-2 anni in Europa e il papà è ex allenatore di Philadelphia e mi sembra adesso proprio vice allenatore dei Pelicans. Ragazzi, che ci è piaciuto, che si fa fare molte cose, è stato subito disponibile a venire qui per un try out, arriverà penso tra due ore o qualcosa del genere, già domani dopo le visite mediche si metterà a disposizione di Pieno. Abbiamo voluto vederlo, abbiamo voluto vederlo di persona, di vederlo qui, oltre che vederlo fisicamente nelle varie Summer League per capire cosa si può inserire nel basket europeo. Questo non vuol dire che lui sarà il giocatore che abbiamo scelto, abbiamo altre situazioni in ballo, come diceva prima il Presidente, vogliamo essere sicuri che il giocatore che firmiamo sia un giocatore di valore, che ci possa dare qualcosa in più con questa squadra. Non è detto che non sia lui, abbiamo altre soluzioni, adesso stanno cominciando i primi workout delle squadre NBA e verso fine mese cominceranno i training camp, abbiamo individuato già dei giocatori che ci piacciono, stiamo facendo con i loro agenti dei pensieri su come lavorare i contratti, visto che questi giocatori cominceranno a breve il training camp e poi possono essere rilasciati da un momento all'altro. Oggi è arrivato anche di Monte Harper, oggi pomeriggio non farà allenamento, domani mattina farà le visite mediche, dopo le visite mediche anche lui sarà parte della squadra, quindi domani pomeriggio dove hanno messo il primo allenamento di basket ci sarà praticamente quasi tutta la squadra. Stiamo vedendo di far venire un altro ragazzo italiano, giovane, in prova, magari più lungo per vedere, vederlo appunto con i nostri lunghi e vedere se eventualmente ci può essere la possibilità di tenerlo qui, faremo sapere nei prossimi giorni se non domani chi è questo ragazzo e se viene, meno che non prenda un contratto con la squadra di B2 che era in quasi appunto. Mi sembra basta per quello che mi riguarda. Diciamo, se hai domande? Vai! Domande? Visto che non sono state vedete le squadre che partecipano... Sì, te le dico, ce le ho scritto. Poi la seconda domanda, se il 30 settembre è tutto un giorno utile per firmare il contratto? Allora, le squadre sono Brindisi, Caserta, Sassari e Bnei Kertri che è una squadra appunto israeliana, una squadra che è importante del campionato israeliano. Per quanto concerne il 30 settembre probabilmente no. Noi prendiamo questo ragazzo che Alessandro ha studiato per settimane, è un ragazzo molto interessante. Può darsi che il 30 settembre si tesseri un giocatore, può darsi che non si tesseri, o può darsi che non sia lui ma sia un altro, però abbiamo detto che nel ruolo di tre non vogliamo sbagliare, ci ha due o tre nominativi importanti che faranno il veteran camp e uno di questi tre che in questo momento sta seguendo con maggiore attenzione sarà il prossimo giocatore di prima. Diciamo che abbiamo un impegno importante al quale ci vogliamo presentare in gran spolvero che è quello del weekend del 4-5 ottobre che è la Supercoppa italiana, prima volta che viene fatta con quattro squadre, quindi vogliamo arrivare nella condizione migliore. Se eventualmente fosse necessario tesserare un giocatore con un contratto a termine, per dire il 30 di ottobre, lo faremo per presentarci bene all'inizio del campionato e all'inizio della Supercoppa. Poi i giocatori li conosce lui, ormai non chiedo più nulla perché ho detto fatemi vedere solo i contratti iscritti che in caso andiamo. Ogni volta che siamo vicini e ci ludiamo che ce ne piace uno, finisce che o prende un'altra scelta o fa un'altra scelta di vita o ci viene soffiato in maniera poco elegante come l'ultimo. Quindi andiamo avanti, il lavoro tocca a loro, noi dobbiamo soltanto studiare bene che ci siano le possibilità all'interno del budget che vengano pagati e che possano far parte di questo rosto. Io una cosa che ho chiesto da Alessandro e Piero è che come negli altri anni noi potremo perdere delle partite e le perderemo, ma noi dovremo uscire dal campo con la certezza che abbiamo dato il 100% delle nostre possibilità. Mi è piaciuta molto l'intervista di Conte e la terza campagna artistica che fanno tengono in maniera particolare. La prima cosa che mi dico è che abbiamo preso in formazione un ottimo ragazzo, perché veramente trovare degli uomini che posino un progetto è fondamentale per una società come la nostra. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.